Ciao ragazze, come state? Spero bene o ne spero meglio di me, sapete che vi dico sempre bisogna essere positive, bisogna essere così, bisogna essere cos'ha, bisogna essere solari ecco oggi avrei bisogno di una persona che lo dice a me perché oggi è una giornata no, nel senso che purtroppo non è una cosa di una giornata nel senso che sono un pochino tanto rimasta delusa da una situazione e questa è una cosa che fa male e quindi facendo male insomma non è sempre facile bisogna essere positivi, bisogna più che positivi perché è difficile esserlo quando succedono certe cose bisogna comunque reagire, questo lo continuo a pensare però devo dire che è più facile appunto consigliarlo agli altri che applicarlo quando le cose riguardano noi no? Io però vabbè sono così, sono fatta nel senso che ce ne vuole prima di buttarmi giù questa è una cosa che sicuramente male mi fa e mi fa, mi ha fatto rimanere tanto tanto male però vabbè le cose succedono no? quindi scusate questo piccolo, avevo bisogno di sfogarmi, mi sono sfogata poi non voglio scendere nei particolari perché sono cose personali però vabbè avevo bisogno e un modo anche per sfogarmi passiamo ad altro, parliamo del trattamento di oggi oggi parlo di più trattamenti e parlo della pelle delle mani che è una pelle particolare nel senso più che una pelle particolare è una zona particolare per due motivi uno perché ce la dimentichiamo ci prendiamo cura della pelle del viso, del collo, del corpo, delle braccia, delle gambe, delle cosce, della cellulite quello che volete ma spesso ci dimentichiamo della pelle delle mani due perché le mani le utilizziamo ovviamente per fare un sacco di cose quindi purtroppo la pelle delle mani è anche quella che si rovina più facilmente e anche che invecchia più facilmente infatti si dice che la pelle delle mani è un po' traditrice perché non solo dimostra l'età che abbiamo più delle volte ma spesso dimostra anche più anni rispetto a quelli che abbiamo realmente proprio perché ci dimentichiamo di curarla e perché purtroppo si rovina molto facilmente in che modo si rovina? allora negli anni tende a diventare secca e quindi ad assumere una consistenza proprio secca e poi perché si macchia tende a macchiarsi con gli anni quindi dobbiamo contrastare questo tipo di situazione cosa possiamo fare? innanzitutto idratare la pelle delle mani giorni e notte nel senso prima di uscire la mattina che andiamo al lavoro prima di fare qualsiasi cosa la mattina ci alziamo dopo che ci siamo lavati idratiamo anche la pelle delle mani con la crema idratante che abbiamo noi oppure con l'olio di cocco oppure con l'olio d'argan poi tutte le mattine la sera quando veniamo a casa cosa facciamo? ci passiamo ancora un po' di olio di cocco oppure di olio d'argan sulle mani ce le massaggiamo ci trattiamo la pelle poi usiamo i guanti quando usiamo magari dei detersivi detergenti particolari magari aggressivi perché stiamo lavando qualcosa proteggiamo le mani mi raccomando perché vanno protette da elementi che possono appunto rovinare la pelle poi altra cosa due tipi di trattamenti trattamenti che servono sempre ad idratare la pelle proprio il primo si prende un rosso d'uovo il tuerlo d'uovo e si aggiunge un cucchiaio da caffè di olio d'oliva si mescola il tutto e dell'intruglio che ne viene fuori si fa questo si mette un po' sulla mano sinistra sulla pelle superiore qua della mano sinistra si massaggia per 5 minuti poi si prende un po' si mette sulla mano destra e si massaggia per 5 minuti con questi massaggi circolari poi per altri 5 minuti si sta belle ferme così ad aspettare che la pelle assorba i principi attivi e dell'uovo e dell'olio d'oliva dopo 5 minuti ci si sciacqua le mani sotto l'acqua fresca si asciugano tamponandole con il solito asciugamano salvietta pulita e dopo si mette un velo di olio d'argan oppure olio di cocco oppure la vostra crema idratante questo tipo di trattamento si può fare una barra due volte la settimana altro trattamento molto efficace è quello del miele si prende uno strato di miele si mette sulla mano sinistra si massaggia per 5 minuti si prende uno strato di miele si mette sulla mano destra e si massaggia per 5 minuti ci inzaccheriamo un pochino poi per 5 minuti aspettiamo belle ferme che la pelle assorba i principi attivi del miele passati questi 5 minuti si sciacquano le mani sempre con acqua fresca si lavano anche perché il miele rimane quindi bisogna un pochino strofinarle quindi si toglie diciamo l'eccesso del miele vabbè che prima non è che dovevamo imbrattarle di miele bastava veramente poco basta poco 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 ok ragazze però vabbè ci puliamo quindi dell'eccesso del miele ci laviamo le mani con acqua fresca le tamponiamo con la solita salvietta pulita e mettiamo un velo di olio di cocco o un velo di olio d'argan o un velo di crema idratante e quest'altro trattamento sempre si può fare una o due volte alla settimana e questo per rendere le mani idratate la pelle delle mani idratate per combattere le macchie bisogna fare un'altra cosa un qualcosa che va fatto assolutamente solo la sera mai di giorno è questo intruglio si prende praticamente un cucchiaio da caffè si riempie di olio d'oliva lo si mette in una bacinella nella stessa bacinella o bicchiere si spreme mezzo limone si mescola e poi si mette e sulla mano sinistra e sulla mano destra questo intruglio fatto di mezzo limone spremuto e un cucchiaino da caffè di olio d'oliva si massaggia si massaggia si massaggia e poi si lascia su dieci minuti questo allora l'olio d'oliva ovviamente idrata e il potere praticamente del del limone spremuto è quello di alleviare di schiarire proprio le macchie della pelle però non va assolutamente fatto questo trattamento prima di esporciare il sole o prima di uscire di casa durante il giorno perché il sole c'è e se facciamo questo quando usciamo che c'è il sole ci macchiamo ancora di più la pelle va fatto assolutamente la sera prima di dormire prima di andare a letto quindi una volta fatto poi ci sciacquiamo le mani con la solita acqua fresca ci mettiamo il solito velo di olio di cocco olio di argano oppure di crema idratante possiamo ripetere questo trattamento due volte la settimana e vedremo che nel giro di un mesetto circa le macchie si schiariranno fino a poi a scomparire nel senso questo è un trattamento molto efficace però da fare la sera questo è quanto ragazzi le mani bisogna curarle la pelle delle mani va curata come la pelle di qualsiasi parte del nostro corpo anche perché poi le mani sono un ottimo biglietto da visita delle belle mani con la bella pelle che per essere bella basta che sia morbida questo è quanto è il nostro biglietto da visita quindi perché non curarle vi do un bacione grandissimo e vi aspetto per il prossimo video smac ciao